Questa sera vi racconto che ho fatto un'esperienza brutta nella vita che credo pochi di voi abbiano fatto, spero veramente pochissimi, e a questi pochissimi veramente tutto il mio rispetto. Questa esperienza brutta è quella di sapere che a un certo punto hai un cancro, una malattia che ti può uccidere. Ora, grazie al Signore io questa esperienza brutta non l'ho fatta tanto nel corpo quanto nella testa, ma poco cambia, perché tanti anni fa soffrivo di questa cosa che si chiama ipocondria, per la quale tu ti senti effettivamente che hai una malattia. E io avevo questa paura così grande del cancro che a un certo punto me lo sono sentito veramente. E poi solo un dottore ti può un attimo rassicurare da questa cosa qui. Ma io ricordo, quando ero effettivamente convinto di questo, quel punto di vista diverso sulla vita che inizia ad appesantirti il cuore. O non so se te lo appesantisce o te lo libera, perché ricordo di essere andato all'università, c'era la lezione, c'era la gente, ma io ero come tipo in una bolla di sapone, cioè come in un acquario. Le persone erano attorno, ma il rumore non arrivava dentro quello che io stavo vivendo. E quando li sentivo, sapete, i discorsi degli studenti, ah il professore c'è l'esame, non abbiamo tempo, c'è troppo da studiare, non riusciamo. Io in mente mia dicevo, ma questi perché sono così agitati? Ma sapessero veramente il guaio qual è poi della vita? E il metro, non lo so, per quella giornata è più che è durato, era diverso. La lettura delle circostanze era diversa. E questa giovane ragazza, Chiara, che in realtà ha molto in comune con me la passione per il nuoto, la musica, una tipa che era molto socievole, piaceva stare con gli altri, ma anche molto seria, una tipa che non si svendeva, una tipa capace di perseguire il suo ideale, quello che aveva nel cuore, a costo anche che fosse presa in giro, a costo anche che fosse ogni tanto allontanata dagli altri, suorina, la chiamavano in classe, proprio perché lei era autentica e non scendeva a compromessi per essere accettata. E proprio pensando a come ti cambia il punto di vista, io quando leggevo la storia di Chiara ai primi tempi non riuscivo, chiudevo il libro, perché poi quando la malattia prendeva corpo era un po' pesante da digerire, quando si iniziava a parlare di ospedale, di chemioterapia a una ragazza così giovane, di paralisi, di nottate veramente brutte, era pesante. Io chiudevo il libro, riprenderò, e riprendevo magari dopo settimane. Lei dirà ai suoi amici, sono uscita dalla vostra vita in un attimo, o come avrei voluto fermare quel treno in corsa, che mi allontanava sempre di più, ma ancora non capivo. Ecco la riflessione un po' simile a quella che dicevo io. Ero troppo assorbita da cose insignificanti, futili e passeggere. Un altro mondo mi attendeva e non mi restava che abbandonarmi. Ma ora mi sento avvolta in uno splendido disegno che a poco a poco mi si svela. Non c'è tempo per riuscire ad arricchire e a trasmettere anche la concretezza di questa ragazza. Ma sicuro oggi ci riporta un attimo a scendere nel nostro presente. Ogni volta che noi siamo affogati dal poi, ogni volta che non capiamo che c'è un magnifico, splendido disegno per noi, iniziamo a fare il nostro di disegno. E questo disegno è un disegno toccato dal peccato, in cui ognuno di noi guarda un po' e gioca sempre a perdere. Il passato quindi è il luogo pieno di ferite, e il futuro è il luogo pieno dell'incertezza. Ma conviene che io creda, lo dico ai giovani, nei miei sogni? Conviene? Se poi può essere così difficile o non so che cosa fare? Allora Chiara nella sua concretezza, nel suo modo di essere molto forte, anche questo diceva, cambiando solo una lettera a una frase, io non devo dire Gesù agli altri, risponde alla mamma quando gli chiedeva, Chiara ma tu parli di Gesù e i tuoi amici? Lei disse, no mamma, io non devo dire di Gesù agli altri, io devo dare Gesù agli altri. Vedete la santità? Cambia una lettera e cambia tutto. Allora affidiamo a Chiara oggi la lettera che noi vogliamo cambiare nella nostra vita, che dobbiamo cambiare nella nostra vita per riuscire a essere felici e sentirci in questo preziosissimo disegno. Lei dovette interrompere ovviamente la frequentazione della scuola, però a casa continuava a studiare, non ha voluto interrompere gli studi fino a quando ha potuto. E vi lascio queste ultime parole che lei ha scritto in un tema, non sono le sue ultime parole, ma le ultime che lascio a voi. Ed è un consiglio per la vita. Fermiamoci un momento per riflettere sul senso della nostra vita. Riflettendo ci accorgiamo che spesso l'uomo non vive la sua vita, perché è immerso in tempi che non esistono. O nel ricordo, o nel rimpianto del passato, o proiettato nel futuro. In realtà, l'unico tempo che l'uomo possiede è l'attimo presente, che ha vissuto interamente, sfruttandolo appieno. Vivendo così, certamente l'uomo si sente libero, perché non è più schiacciato dall'angoscia del suo passato e dalla preoccupazione per il suo avvenire. Questa sera fate questo esercizio. Mettetevi una mano sul cuore e sentitelo battere. Perché lei ha perso tante cose, Chiara. La possibilità di camminare, la possibilità di vivere i suoi primi amori, la possibilità dello studio. Lei voleva essere pediatra, aiutare i bambini in Africa, ha perso tante occasioni, ma il cuore no. E lei diceva, io ho perso tante cose, ma ho ancora un cuore. E voi sentite battere il vostro. E finché ho un cuore, posso ancora amare. E quindi ho tutto. Sentite il vostro cuore battere, anche voi ditevelo. Posso ancora amare. E quindi ho tutto. Grazie. Grazie.